Oggi ci troviamo a Garzeno, facciamo un giro con Massimo, parcheggio tattico partiamo da qua Garzeno, Rifugio Santiorio, Passo Santiorio, una roba del genere Sì, c'è anche la parete per arrampicata qui bello, ma che bella panoramica qua vedi che adesso il simbolo lì c'è un po' più, un po' dappertutto perché ormai è una moda le ricariche, gente che magari non è mai andata a fare questi giri adesso si permette di farlo con la bici, perché c'è l'elettrico che lo porta su giusto, bravo che vai a Chiavenna e verso St. Moritz entrando dalla Svizzera però, bello qua stanco però, eh beh, non sembra, ma tira orto cane perché man mano che andiamo avanti si apre la vista dentro nella valle, no? Sì, e dopo un po' vediamo il rifugio allora ok, guarda il rifugio, dobbiamo arrivare lì insomma guarda, questo è il rifugio dove, noi scendiamo giù di là, guarda lo vedo, lo vedo, lo vedo, Massimo scusa quella che si vede qua quella lì, noi la vedevamo dal rifugio Montebar senza buttarmi giù chiaramente che bello per ora, per ora sui indissi hm dai, manca poco porca miseria ok, rifugio Santioio bene, adesso io vi parcheggio qui un secondo quello più grosso, la città più grossa che c'è sulla sponda sulla sponda sulla sponda eh, destra sì del lago maggiore e Locarno bella miseria dai vaffanculo bello bello la conquista della croce ed è tutto orrò è felice ok, è dato che c'è l'azione che c'è l'azione che non è che c'è l'azione che c'è l'azione che è oggi Oh la miseria Che sassai ora Che sassai ora Che sassai ora Bello Via Che sassai ora 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 quindi è finito giro concluso bene il nostro giro si sta chiudendo siamo arrivati a Garzeno buona bella lì grande questo cos'è tour come lo chiamiamo passo santiorio basta fine ok bella lì